Bene ragazzi, questo è il paggellone dei giocatori della Roma nella stagione 2020-2021, la stagione è terminata e diamo i voti a tutti i giocatori Paolo Lopez, Paolo Lopez votò 5,5, un portiere molto insicuro rispetto agli altri anni, era preso dal Betis l'anno scorso per fare bene con i piedi Ci si è dimostrato tutt'altro, anche con le mani, 32 milioni buttati, veramente, avete capito dove, un portiere che è troppo insicuro nelle uscite, negli interventi, nelle cose basilari E purtroppo tante papere in questa stagione, anche belle partite alternate alle prestazioni Passiamo al secondo portiere della Roma, Antonio Mirante votò anche lui 5,5, partite belle alternate a partite veramente penose, partite penose mi viene in mente quella con Napoli ma molte altre Mirante è veramente un portiere che però non ha molte colpe, 38 anni, non può fare il secondo portiere di una squadra così importante E quindi questo è il voto Fuzzato, il terzo portiere è l'unico sufficiente, votò 6 Finale di stagione perfetto, ha fatto 2-3 partite però molto molto bene per Daniel Fuzzato Che secondo me è il più forte 3-3 perché abbiamo visto nell'ultimo partire nel derby con la Samp e comunque anche con la Spezia di saper giocare, di saper fare il suo ruolo Smalling votò 5,5, stagione troppo, troppi infortuni in questa stagione, non discutiamo la tecnica del calciatore Però gli infortuni sono stati decisivi, mancato per più di metà stagione, purtroppo la Roma è influenzata da molti infortuni Il Chris Smalling che ha fatto ottime prestazioni, forse uno degli unici ad aver tenuto bene Lukaku nella sfida tra Roma e Inter Però male male per gli infortuni, troppo discontinuo Gialluca Mancini Gialluca Mancini gli do un voto 7,5 Bravissimo Gialluca Mancini questa stagione, si conferma un top player, un ottimo difensore Erano decisivi tra le 8 e le 7,5 però preferisco dare 8 ad altri giocatori Mancini che è veramente un uomo grintoso, fuori, dentro dal campo Un leader per questo squadro Cumbulla votò 5,5 Ci aspettavamo tanto da lui perché l'avevo pagato circa 30 milioni dal Verona L'anno scorso ottima stagione, quest'anno arriva a Roma e troppi infortuni anche lui Poi le prestazioni che ha fatto non sono andate per niente bene, anche partite bruttissime Non mi ricordo una bella prestazione di Cumbulla quest'anno Tranne qualche gol, per esempio quello al Milan inizio anno E basta, cioè Brian Crissante, mamma mia Anche lui, voto 7,5 Giocatori capaci di giocare dappertutto, sulla tre quarti, centrocampista, difensore centrale Atalanta giocava sulla tre quarti Purtroppo la Roma gioca sempre da difensore centrale a causa delle assenze Se no giocherebbe centrocampista, però i centrocampisti li abbiamo Poi a causa delle assenze ha giocato praticamente tutta la stagione da difensore centrale Facendo anche ottime prestazioni, ma è uno dei pochi che ci mette grinta Ma una grinta di quella che... Proprio una grinta verso onorare la maglia, tutto Brian Crissante ha trovato anche un paio di gol da difensore Mi viene in mente quello con l'Atalanta Una sassata da 30 metri, veramente bellissima Poi veramente prestazioni ottime in difesa Vero gli errori, mamma mia, lo ucciderei Però, raga, non è il suo ruolo Veretù, anche lui voto 7,5 Veretù un'ottima stagione Peccato per gli infortuni finali Un giocatore veramente di grande tecnica Veloce, rapido Bravo nei dribbling, recupera i palloni Giardin Veretù, anche lui Parte la stagione infortunato, ma col che ha fatto, ha fatto Il voto è 7,5 Diavara Diavara, voto 5 Diavara veramente un giocatore che... Anonimo Un giocatore che ti sbaglia le partite È vero il gol a Firenze Il gol decisivo che ti ha fatto vincere 2-1, mi ricordo Però, Diavara, ha errori in disimpegno Errori di costruzione Errori che... Con retrovassaggi clamorosi Palla al portiere sbagliata Palla agli attaccanti avversari Poi, non ha dimostrato praticamente niente quest'anno Il voto quindi è ridotto Villar Voto 6 Villar che ha fatto una buona stagione Ha giocato un paio di partite A causa dell'assenza Anche perché per farlo esordire tutto Villar ha comunque dimostrato di essere un grande giocatore Con grande tecnica Purtroppo anche lui troppo giovane Veniva dalla Serie B spagnola E comunque si fa pesare l'esperienza in Europa Soprattutto Darboe Finale di stagione splendido Un giocatore che non si fa vedere molto A livello di gol, di assist Però è un giocatore che ti recupera i palloni Imposta il centrocampo Imposta il gioco Tutto Darboe L'abbiamo visto anche nel derby Tra l'altro Non è esperto ma bravissimo Darboe Voto 6 e mezzo Rick Kasdorp Lui voto 7 Kasdorp che Dopo tanti anni di infortuni Alla Roma non si è trovato bene i primi anni E veniva dal Feyenoord Lui comunque l'abbiamo riscattato Quest'anno si è riscattato lui Si è riscattato la stagione Facendo un paio di assist Anche qualche gol D'esterno destro D'esterno destro E Un giocatore veramente velocissimo Non si era mai visto così Kasdorp alla Roma Anche perché se ricordate negli anni passati Non riusciva a correre neanche per mezz'ora di partita Quest'anno invece Un giocatore del tutto trasformato E il voto è più che giusto Bruno Perez Voto 5 e mezzo Perché è insufficiente sicuramente Brunello Perez Perché comunque È pure andato via da Roma Ciao Perez Godo 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 Però C'è da dire che Comunque qualche partita Le prestazioni le ha fatte Ma Bruno Perez È veramente un giocatore scandaloso Se non fosse per quelle partite Che ha fatto gol Assist Qualcosa del genere Recuperi buoni Il voto era molto più basso 5 e mezzo però E ci può stare Pinazzola Voto 8 Leonardo Spinazzola Veramente un fenomeno Quest'anno si è dimostrato Uno dei terzi sinistri E i terzi sinistri Più forti Della nostra serie A E l'abbiamo vista Anche con la nazionale Non smette ma di correre Nei 90 minuti Peccato per gli infortuni A fine stagione Qualche strap Soprattutto Per quanto corre Madonna E fa gli strappi assurdi Molto sottovalutato Secondo me A livelli di tornanti Si è sicuro Poi non lo so E Spinazzola Che Ha fatto tanti assist Comunque Un'evelocità assurda Imprendibile Nell'uno contro uno Fa 9 dribbling su 10 Gli riescono Veramente un giocatore Quest'anno Rinato Più che rinato La Juve Mancava la continuità Di infortuni Quest'anno pochi ne ha avuti Solo forse quello finale Alla Juve Però era già Un gran giocatore Calafiori Da riserva Voto 6 Ha giocato poche partite Anche perché comunque Spinazzola ha giocato tante partite Calafiori era stato infortunato Anche lui Si era rotto il crociato Ha giocato pure Qualche partite In Europa League Però Mi ricordo anche il gol Fantastico Sono assassate ai gironi Però Il voto comunque è sufficiente Pedro Pedro votò 5 e mezzo Tralasciamola Il finale di stagione Che ha fatto il gran gol Alla Lazio Il gol iniziale all'Udinese Vari assist Però veramente Pedro Io mi aspettavo di più Eri nato nelle ultime partite Dopo che Mourinho E Ha ufficializzato L'arriva Alla Roma Italian Come fai a non dare 9 a questo giocatore Non mi ricordo precisamente I numeri Ma 14 gol E 11 assist Dovrebbero essere Per un centrocampista Offensivo Sono veramente tanti Uno dei centrocampisti In Europa Che ha fatto più Gole e assist Un giocatore Fenomenale E già lo sapevamo Ed è pieno Lo United Dell'Arsenal Però Quest'anno è veramente Un giocatore Fantastico Era arrivato Mourinho Sembravano rinnovare Perché avevano litigato Se non sbaglio Mourinho e Mkhitaryan Nei tempi Dello United Però Alla fine è arrivato Il rinnovo Il rinnovo È biennale Se non sbaglio Due anni di contratto Sono contento Per l'Armeno I pellegrini Voto 7 7 Al capitano Della Roma Che ha fatto Una buona stagione Però ha alternato Anche presenze Delle partite Scarse Però anche Ottime gare E mi ricordo Di gol All'Ajax Parvera il portiere Però ha bella punizione Comunque Pellegrini Che Non ha Quella velocità Che dici Madonna Quanto è veloce Però ha grande tecnica Grande stile di gioco E quindi Pellegrini È un ottimo giocatore Con Questi Diciamo Con queste doti È un gran giocatore Ed in Dzeko Voto 5 e mezzo Mi aspettavo molto da lui In Europa Ha fatto bene Perché Ricordiamo I gol all'Ajax I gol all'United Se non sbaglio I gol All'United Perché se non sbaglio Non ha fatti due Tra l'andata e ritorno Non mi vorrei sbagliare E Un campionato Però veramente pochi gol 7 gol Aiuta la squadra Ma Secondo me Un attaccante deve segnare Purtroppo quest'anno Non l'ha avuto Un attaccante Che ha segnato Tantissimo Prossimo anno Speriamo di vederne uno Comunque Dzeko Che a 36 anni Si può giustificare Mayoral Mayoral Devo dire Voto 7 meno Mayoral Che è un giocatore Si Forte da davanti Te la butta dentro I palloni Però non è Non dici Cioè Quell'attaccante Che è forte fisicamente Che ti sposta I difensori Che Capito Che gli fai i grossi Mezzo Salta Non è l'altezza Diciamo Di un attaccante Alla rapidità giusta Scappe mezzo agli avversari Però Secondo me L'attaccante Deve avere doti diversi Per esempio Metti Lukaku Non dico che devi prendere uno così Però almeno Una la Belotti O la Vlaovic Quindi Secondo me è così Quindi raga Per questo video è tutto Spero che vi piaccia Il pagelone sulla Roma E noi ci vediamo in presto un video Ciao Ciao